Grazie. Grazie. Buongiorno. Arrivederci. Ciao piccola peggipessa. Ciao. Amuri. Vuoi guardarlo? Come si chiama lui? Si è affacciato. Ci vuoi avvicinare? Mamma, lo vuoi vedere? Meglio? Grazie, è bellissima questa cosa. E' come raggiunti. Gli vuoi fare una cuccolina? Vuoi fare la carezza? Questa bimba come si chiama? Lei si chiama Anita e ha un cagnolone. Possiamo lasciare... Può colorare comunque. Piano piano. È il tuo! È il tuo! Il cioccolato devo fare e le mangiare a mano. Quelle servono? Quelle servono? Aiutate. Questi sono per il bagnetto. Bello! Tra poco iniziano a giocare. Ciao! Questi occhi si fanno un calcio nel mondo. Sì. Scusate. Aspetta. Ma dovresti stare in prima? Ecco così. Vieni qua. Grazie. Nipotini. Dai! Andiamo nipotini. Dai! Andiamo nipotini. Insieme arrivi. Scusate. Oh! Noi! Cancelai! Oh! 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 Non l'ho! Oh! Grazie. Grazie, scusai per la gratitudine. Grazie, scusai per la gratitudine.